67 nuclei familiari per un totale di 260 persone. Sono i numeri del mantello, l'emporio solidale di via Mura di Portapò, rivolto alle famiglie che non ricevono sostanziali e continuativi aiuti né pubblici né privati, perché situati poco sopra la fascia di reddito prevista dalle norme. Il progetto, nato lo scorso ottobre 2016, è stato raccontato in una presentazione semiseria nell'auditorium della biblioteca Bassani di Barco, con letture di brani, accompagnati dalle sonorità della First Music Class. L'evento nasce da un'idea che abbiamo così partorito in un gruppo di volontari, con l'obiettivo di far conoscere il mantello un po' fuori dai canali tradizionali, presentandolo con un'iniziativa di tipo molto giocosa, al ben chiamato semiseria. Siamo in quattro che partecipiamo in modo attivo a questa iniziativa e cercheremo di presentare il mantello attraverso alcune parole, dieci parole chiave che lo illustrano attraverso delle brevi letture. Per commentare, introdurre le dieci parole chiave di cui ha parlato Patrizia poco fa, abbiamo chiesto di scrivere altrettanti brani musicali a Dario Zaniboni. Dario Zaniboni abita qui al barco e tutti i sabati viene a suonare il pianoforte a coda che è presente nella biblioteca Bassani. L'altro grande divertimento musicale sarà quello prodotto dalla First Class Music, che è un gruppo musicale di Anthony Obua, di origine nigeriana e quindi lui, loro e il Dario Zaniboni, il pianista, si alterneranno nel presentare e nell'animare questa nostra giornata. Promosso da Agire Sociale, che ne è anche l'ente gestore, Comune di Ferrara e ASP, Centro Servizi alla Persona, il mantello traccia un bilancio positivo dei suoi primi mesi di attività, anticipando novità per le prossime settimane. Si cerca di dare un paniere non soltanto di beni alimentari, ma anche di beni relazionali e anche di beni culturali. Infatti questa mattina abbiamo un'iniziativa in una biblioteca, non a caso. Abbiamo uno scaffale relazionale dove invitiamo anche a frequentare attività culturali di vario tipo, teatrali, musicali, artistiche legate allo sport, con la collaborazione ormai di decine e decine di partner che ci stanno supportando nel progetto. Quindi il progetto va bene, c'è stata una grande partecipazione da parte della comunità e in questo momento dal 15 di maggio e fino al 15 di settembre abbiamo aperto un bando nuovo per la missione di 50 nuovi nuclei familiari.